Bella a tutti ragazzi e ben ritrovati da vostro MrVolpix97 Ben ritrovati oggi su... Diciamo su questa custom map nella seconda puntata del Regno della Luce Allora ragazzi, 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 continuiamo subito Io spero che non spawnano mob Mi seguo questa ampia di normale Perché non ho neanche una spada e quindi ragazzi dovete scusarmi ma li devo mettere in peaceful E non lo faccio apposto ma è perché diciamo... Ehm... Tipo non ho neanche una spada e qui non c'è modo di craftarsi niente Vediamo quello che ho capito, vediamo cosa fa questo Guarda le luci spegne, eh Guarda le? Boh Guarda le cazzo di luci spegne, ah guarda un uovo, c'è un uovo bello Ok, fatto, ok benissimo Allora, lì ci siamo stati Devo mangiare assolutamente Vabbè, ho fatto nascere un pollo Te lo do col cazzo di diamante, pollo Pollo, pollo Pollo, dammi, dammi la tua cazzo di carne No, non mi ha dato niente, poverino Eh, non posso correre, guarda che vede le pecole Non posso correre perché sto morendo di fame Ho posato tutto Ho posato tutto Vabbè, te le do col Ma vai, morici Vai Mori, dai Va bene Vai Vai, mori, mori, mori Ok, grazie Ok Ok Nel mentre che, diciamo Pappappà, passeggio Io vado a cuocere ste cose Non me le mangio adesso perché tanto A questo le saranno fatte quelle che Quelle che già stavo cosciendo Quindi non avrebbe molto senso Devo andare a controllare un po' più la cosa c'è Ok, bellissimo pollo Ecco qua Eh, qui Prendo questi Ok E qua E ce ne metto Ecco qua Vabbè Sti cazzi Eh Me ne avanzerà uno di sicuro Comunque È notte Io ancora non ho capito Il senso di questa mappa E sinceramente neanche lo voglio capire Perché se lo capisco Sicuramente morirò In un modo Che forse Non lo so Ma cos'è questa? Ah, la cava Vabbè Ma no Questa è un'altra cava Non Questa è un'altra cava ragazzi Devo mangiare La pedanda è in Pacifica Non è che Non è che ci muoio qua E speriamo che dopo che posso Che cosa? Ma non c'è niente qua È inutile che vado qua Non avrebbe molto senso Perché dopo non ho neanche i blocchi Per risalire Li potrei anche rompere Ma Non Nel senso Non è che ci faccio Cranche Che fa? Eh Ci metto troppo tempo Allora Qui già abbiamo scoperto Le tombe di Di un antenato Ma io non so cosa fare Perché questa custom map Non è che ha senso Eh, io dico la verità Mi dispiace E chi ha creato questa custom map Ma io vi dico solamente la verità Non ha molto senso Grazie E rompo sti fiorellini E mi ci faccio il colorante Eh Ah Vabbè Ok Vai Mare Ma rompere qua Ah Guarda Ah guarda la casa Uovo Vabbè Uovo di pollo Pollo crudo e piume Guarda Oddio Billy O Jimmy O Jimmy per gli amici Riposa in pace Ah ho capito Mai volevo scavare Nella prima modata Vi giuro Volevo scavare Nella tomba Che avevo trovato Ma Eh niente Dico non ci troverò Niente di sicuro Ma non pensavo Che si eravamo a sto punto Di metterti Delle casse Sotto 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 la cosa Qui Devo chiudere Chiudi Ok Fatto Cos'è quello Ah niente Un'altra cosa Vabbè Ehm Pollo Che cazzo guardi Angolo Angolo Ok Ehm Ah una cesta Ah vabbè Questa cesta di acera Ah ecco qua Un'altra Ah Andiamo qua Ecco Ecco come cazzo Vado Materiali abbandonati Pietra Mattone di pietra Crepati Operaio Del molo Ah vediamo Che c'è scritto qua Beh andando Risalgo No Aspettate Aspettate Ecco Allora Eh ok Guarda mentre che saltavo E il molo è quasi finito Abbiamo abbandonato i minerali Rimanenti In una cassa sotto a terra Il capo mi ha detto Di memorizzare Un numero 431 Lo ricordo ancora Chissà cosa sarebbe servito 431 Vabbè me lo terrò a mente Eh Nel mentre Vabbè 431 Non è che facile E non è che difficile Vabbè Qui c'era la barca Vabbè Ma comunque dai Già mi sta piacendo un poco Fino a quando Possiamo trovare queste cose E la cosa mi piace assai Quindi Faccio così Faccio così Ah vedi Qua già l'avevo presa Le cose Ah qui Eccola Vai Oppla Addio Luigi delle Bicocche Eh osso carica di fuoco Ma qui ci saranno tantissime cose Mattone di pietra Pietra Ma fai a pietra Mazzinocela qua Questa cosa è uovo di ponte Perché ha fatto così Eh vabbè Leggemo il libro Caro diario Non ho pagato il pizza Alla mafia Che cazzo di questo Ma vabbè Mi chiedo Caro diario Non ho pagato il pizza Alla mafia Perciò mi hanno buttato Nella lava Che male Sì vabbè Fatela una scusa Ma molto più Realistica Beh non lo capisco Ma comunque L'idea sarebbe molto carina Spero che anche voi Apprezzate questa cosa Ah incollare un'altra Beh speriamo che lo trovo tutto Alla ne vedo un'altra Eh quindi Ok Ok Addio silent killer Non mancherà nessuna Ah Abbotteteli in cattagione Morte di silent Ok Me l'ho messa qua Ah sella per il cavallo Uovo di creeper E oh E osso Però Tutte queste cose Che mi stai droppando A cosa Ok Ok Fatto Eh A cosa mi dovrebbero servire Proviamo a salire qua Magari per andare a lasciare niente Ok Qui Non c'è niente Proviamo ad andare qua Ok Mi sta piacendo Mi sta piacendo Non so cosa devo farci con il lingotto Il diamante Lo smeraldo E il lingotto Ti fa Ma vedo Morte di silenti Caro diario Sono morto Nelle costruzioni Nelle mura Fanculo in materiale Scarenti Vive Pinky Floyd No Ma tu sei un fottuto mito A sto punto Mi serve la Mi serve La tua fottuta Carne Ecco Mi serve la carne Dio tantissimo Te la potrei dare col diamante Mi spavento che si rompa Scherzo Ma comunque si potrebbe anche rompere Qui non è che c'è qualche cosa No Io sto girando a vuoto Comunque ragazzi Avevo intenzione di fare una collaborazione Con uno youtuber Qui su minecraft E Gio in mente Ah eccolo un'altra Vedete non l'avevo vista E Ci sto mettendo d'accordo Dovevo registrare oggi Ma Purtroppo no Non mi ha detto niente E Tomba di Renzo Piano Il posto in pace Renzo Piano Osso Va bene Beh Ok Un bollo Perché basta Ecco qua Ok Va bene Va bene Ah eccolo un'altra Anche culo No Qui l'avevamo già aperta Ah forse Sto facendo un giro a vuoto Ok 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 Posso rompere il brico Ah che bello Vabbè Non ci faccio niente Ma Attacca questo ceppo Attacca questo cazzo Ok Eh Mi diverto troppo Mi diverto troppo Mmm Siamo sicuri che non c'era più Mmm Chiedo di no Ok È l'alba Ma io proverei ad andare Un altro poco qua Girovaganto E casomai Non trovo più niente E Concludo questo Diciamo Questa serie Diciamo I due episodi Perché tanto non c'è niente E quindi Ah Guarda tu E lo sapevo che c'era qualcosa qua Seconda combinazione 4-3-1 era Si Era 4-3-1 Ecco qua Vattola Ah Bellissimo Bellissimo Tomba di Desterroid Non mandato che sarebbe Credo il creatore della mappa Sì se non sbaglio Fondatore del regno della luce E della regia Al suo interno Va bene Va bene Va bene Va bene Va bene Va bene Ok Prendiamo sosta Con 46 sosta Non sono mai qua Ah ecco qua Vabbè Vediamo l'altro No ferro No Diamante Va bene Maglia Doro Non so cosa è meglio Loro O il diamante Magari del diamante Ok Spada Arco E frecce Ok Vediamo Ok Ok Mettiamole qua Questo Qua Ok Ecco qua L'arco Me lo metto qua Ok E vediamo qua Cosa c'è TNT Sì vabbè Uovo di calamaro Cosa uovo di calamaro Aspetta Un minuto Uovo di calamaro Vediamo Uovo di pillico Ah uovo di pillico Prendiamo l'uovo di pillico Così magari Pessioni del vento No Enderman Pick and zombie Pollo Scheletro Ragni E creeper No 64 blocchi di ferro 64 blocchi di diamante Blocchi d'ora Insomma mi sono riempito Di queste cose No Oh mio dio Vabbè Non è piccola Ultima memoria Vediamo Non ci fa niente più Nel lontano 1842 Con l'interno Di creare un regno Lontano dal loro Della paura di istruzione Lasciata dai mobs Ho deciso di costruire Il regno della luce Con l'aiuto di uomini Forti e coraggiosi Purtroppo Molti di esse Non ce l'hanno fatta Sopravvivere E Il regno ancora Buone l'arbere E mobs Di sera infatti Ce ne compaiono Una decina Per questo Ho deciso di arricchire Il regno di una luce Di luce Con un'altra costruzione La reggia Di luce Anni dopo Del 1900 Scrivo queste ultime righe Prima della mia morte La struttura è ancora intatta Lo sarà Per molto altro tempo Grazie al fantastico Lavoro Lavoro C'è scritto Dei cinesi Sotto pagato E Volevo dire Demuratore Questa veglia Non avrà più abitanti E mi dispiace Perché verrà abbandonata E incustodita Chiamo perciò Tutti coloro Che la trovano A rimanerci Dentro E ti prenderla Come demora Fissa E sicura Bel discorso Insomma Un bel discorso Veramente Insomma Mi ha commosso Aiuto Cerco nelle tombe Che qualcosa Che poi Vabbè Già l'ho fatto Non è che LOL E' bello ragazzi No Mi è piaciuto Però Non è che Forse ci creperò Forse ci creperò No Aiaiaiaiaiaia Ok Fatto Vabbè raga Concludo qua Questa serie Diciamo Io ho messo In pacifica Ma Opzioni Facciamo normale Ok Così spunteranno I mob di serie E credo anche Nelle caverne E Vabbè Facciamo così Non finisco Qua la serie Facciamo che ne faccio Una terza puntata Quella la faccio Come ultima puntata E nella terza puntata Andremo là Nella Con la nostra Spada di amana Andremo nella cava A vedere Cosa troveremo E magari per l'appunto Vedere qualche altra cosa Perché adesso Ricordiamo che Abbiamo i blocchi d'oro Blocco di diamante E sperando che Dio mi aiuti Guardiamo un minuto Dove è la crafting Ok Il legno Si trasforma Ok va bene Va bene Ok 8 Facciamo 8 di questi E vediamo Se No Un blocchi di diamante Non si può fare niente Vediamo Cosa posso fare Ah mi viene il diamante Vabbè Facciamo così Ok vabbè Ecco qua il piccolo Il diamante Vabbè Non è Va bene Va Un minuto ragazzi E lo sapevo Non abbiamo una cesta Magari per posare Alcune cose Qua no Qua no Qua no Qua no Vabbè Buttiamo questi Buttiamo questi Ok ragazzi Ce l'ho fatta E mi sono fatto Il piccone Ce l'avevate visto Mi sono fatto lasciare Il diamante La palla di diamante E zappo di diamante Lo so che mi sono fatto Troppe cose di diamante Ma Guardate qua Non resistivo Diciamo a questa cosa Niente Qui niente Ah questa Chiuda E chiude E accende Vabbè Ehm Va bene Comunque Io concludo qua Quest'episodio Mi sorpreso anche La crafting table Perché nel prossimo episodio Come ho già detto Andremo nel Diciamo lì Nella cava Andremo a spezzerare Un po' Quello che si dice Vediamo i mostri Che ci sono Magari a trovare Dell'oro Qualche altra cosa Ehm Che ne so Così per passare tempo Quella sarà l'ultima puntata Per l'appunto E concluderemo anche Quella serie Spero che comunque Il video vi abbia fatto piacere Quindi Noi ci vediamo Nel prossimo episodio Dal vostro MrFallpix 97 Spero che magari Qualcuno di voi Abbia seguito Fino alla fine Questa puntata E non si Si è fermato Ne giù che minuti Perché E all'inizio Il video Possono essere Un po' Comoscio Ma questo Si effe Come dire Si fa Se non si effe A tagli Beh Ma nel caso mio Diciamo Le cose belle Vengono sempre All'ultimo Infatti abbiamo trovato Come avete visto Tutte le tombe Abbiamo trovato Il passaggio segreto E quindi Se il video vi è piaciuto Dovete lasciare un bel mi piace Ehm Non so Se vi va Iscrivetevi ragazzi Guardate che bello è qua E noi ci vediamo Cos'è questa Stanza da letto Ah non l'avevo visto Ah no Questa è da dove siamo partiti Però la bandiera Non l'avevo visto Ah E noi ci vediamo Al prossimo video Dal vostro carissimo Carissimo Adoratissimo MrVolpix97 E vi ricordo Che sempre A 200 iscritti Farò un contest Dove metterò In palio E delle cavi Delle Ma vabbè Delle chiave di steam Ehm Come quello Dei 150 iscritti Che perché non lo sapessi Ho fatto Un contest Da 150 iscritti In cui ora Ho fatto Come dire Ho fatto partecipare Fino a tre Partecipanti Insomma Ho fatto vincere Ad alcuni E tre chiavi di gioco Di steam E Sono stati felici Sono stati qua nel canale Mi guardano sempre i video E spero che magari Qualcuno di voi Si iscriverà Non solo per L'estrazione Non solo per Questo contest Ma anche per seguirmi E per seguire Tutti i miei video Quindi Noi ci vediamo Nel prossimo video E Bella Bella Ciao